Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Emanuele e bentornati qui come sempre sul mio canale. Oggi voglio portarvi la recensione di questa qui, la Panasonic Lumix G7, di cui avete visto l'unboxing qualche giorno fa sul mio canale. Questa è una camera mirrorless che non è recentissima, è stata rilasciata alla fine del 2015, inizio 2016, e sicuramente ci sono macchine molto migliori rispetto a questa, che comunque è un'ottima, davvero un'ottima camera, soprattutto per il prezzo che ovviamente è più basso rispetto a quelle che sono uscite più di recente. Voglio parlarvi di questa camera in maniera un po' generale, non farò una recensione, anche perché non è il caso, ne sono uscite tante online, quindi diciamo che sì, io la chiamerò nel titolo recensione, ma in realtà sono più delle impressioni personali legate al mio utilizzo e a quello che ho fatto con questa camera. Vi dico tutto quanto dopo la sigla. Bene ragazzi, questa è una camera che si tiene molto bene in mano, perché è sì abbastanza grossa, nel senso che non è sicuramente piccola, si fa sentire, però l'impugnatura favorisce la presa, e quindi prendendola in questo modo diciamo che non avete nessun tipo di problema. Magari quando la tenete in mano per troppo tempo vi può stancare un po' il braccio, quello sì, perché comunque pesa, è più di mezzo chilo sicuramente, quindi diciamo che non è sicuramente leggera. Tuttavia il corpo macchina, se andiamo noi a togliere quello che è l'obiettivo con il proprio obiettivo, diciamo così, è molto leggero, molto piccolo, insomma abbastanza compatto. Quando gli andiamo a mettere invece l'obiettivo, ovviamente diventa più pesante, questo è un 14-42 mm ed è quello standard che fornisce non in confezione Panasonic, ma lo dovete acquistare a parte. Il costo di questo obiettivo è di circa 150€ su Amazon, vi metto tutti i link sia di questo prodotto che anche del resto qui sotto in descrizione, quindi se siete interessati fateci un salto. Il corpo macchina costa intorno ai 550-600€, quindi in totale verrebbe sui 700€ circa tutta la macchina. 700€ che io non sono un esperto, lo sapete bene, però mi piace parlare di questo tipo di prodotti, che secondo me li vale tutti, perché? Perché è completa, diciamo che per un uso normale, non professionistico ovviamente, è davvero ottima e non ho trovato particolari difetti. Infatti è molto buono il mirino, perché avete la possibilità di utilizzare sia il mirino che lo schermo ovviamente integrato, schermo che è touch e che si può inclinare di 180 gradi, questa è una cosa ottima quando dovete farvi le riprese in questa maniera e sicuramente per i vlogger, per chi fa video su YouTube come me, è un'ottima, ottima cosa. Tra l'altro, gli ultimi video che avete visto sul canale li ho registrati con questa camera, utilizzando appunto questo schermo che si poteva ruotare e sicuramente mi sono divertito molto ad utilizzarla. È proprio il divertimento, diciamo, la facilità di utilizzo che ti spinge appunto ad utilizzare questa camera. La messa a fuoco è ottima, quindi mette bene a fuoco, la profondità di campo c'è, si nota, e lo avete visto anche negli ultimi video, e la qualità è nettamente migliore rispetto ai video precedenti che registravo con il telefono, come in questo caso, oppure con altre camere però di livello inferiore, però certe volte perde un po' il fuoco. Diciamo che l'obiettivo non è eccezionale, ma essendo quello base, 14-42mm, è più che accettabile, più che buono. La camera qui sopra ha delle modalità che permettono di andare a selezionare quindi la classica modalità automatica, scena, poi abbiamo la modalità in confoco manuale e quella per andare a applicare degli effetti all'interno dell'immagine. Qui invece abbiamo alcuni tasti funzione che ci permettono di andare nel menu, di vedere i video e le foto che abbiamo registrato o scattato. Qui abbiamo la possibilità di andare a cambiare il dispositivo di destinazione, quindi andare a utilizzare anche il Wi-Fi che è integrato in questa camera. Qua abbiamo invece le varie impostazioni classiche, quindi la possibilità di modificare l'ISO, bianco e nero, poi una funzione per andare ad attivare il menu delle impostazioni che ora vedremo, e quella per andare a cancellare o tornare indietro. Con il tasto FN5 invece abbiamo la possibilità di cambiare la zona di inquadratura, cioè dallo schermo si passa al mirino dove vedete alla fine le stesse impostazioni. Non so se si vede da qui, dalla fotocamera, vedete qui dentro nel mirino che c'è la stessa inquadratura che avremo ovviamente qui nello schermo touch. Schermo touch che, come vi ho detto prima, prende molto bene ed è molto molto utile per fare delle operazioni classiche. Questa è l'UHD iniziale, abbiamo qui la modalità che può essere appunto automatica, quindi auto intelligente plus oppure auto intelligente normale con luminosità automatica. Qui abbiamo le varie impostazioni che possiamo andare a selezionare cliccando su F2, quindi abbiamo la possibilità di registrare video fino a 4K a 25 frame per secondo. Vi dico subito che comunque ho provato l'impostazione di registrazione ma mi sono soffermato molto di più sulla definizione standard che è quella che ancora secondo me va meglio rispetto alle altre, ovvero il 1080p a 50 frame per secondo. Poi abbiamo le altre impostazioni, quindi possiamo registrare anche a 25 frame per secondo oppure l'HD a 25 frame per secondo. Questa è una cosa che non ho capito, cioè perché non è stato aggiunto anche il 50 frame per secondo, però vabbè, poco male. Invece possiamo anche registrare sia nel formato MP4 che nel formato AVCHD, come era successo, come capitava anche con la scorsa videocamera, l'HCV570, sempre di Panasonic, che vi ho recensito qui sul canale, trovate il video qui sopra tra le schede. Andando avanti nel menu abbiamo la possibilità di impostare il quadro di scatto, quindi a 3,5 oppure 4,3, 16,9. Insomma, classiche impostazioni che già sapete. Se volete fare delle riprese un po' cinematografiche, un po' più di qualità, potete usare ovviamente il 16,9. Qua invece abbiamo la possibilità di scattare anche delle foto in RAW, quindi un formato migliore, con una qualità migliore, e quella di impostare il classico scatto automatico che permette appunto di scattare delle foto in sequenza. In questo caso sarebbero ogni 10 secondi tre immagini, ma poi possiamo cambiare e mettere l'autoscatto in 10 secondi, quindi per fare per esempio foto di gruppo oppure autoscatto in 2 secondi e così via. Con il tasto dispositivo permette di togliere l'UHD e di attivare questa sorta di livella che vi permette di mantenere la camera in posizione, diciamo, comoda e lineare per avere una inquadratura stabile e centrale. Invece andiamo a vedere il menu. Menu che è fatto bene e molto semplice. Qui, in quello della fotocamera, potete decidere la velocità dello scatto, il tipo di foto in 4K, quindi quanto scattarne, se in automatico, se di continuo e così via. L'autoscatto che abbiamo visto prima, il timelapse, che possiamo intervallare secondo una durata, diciamo, a nostro piacimento, e altre impostazioni classiche. C'è anche l'HDR, la possibilità di agevolarci nelle riprese notturne e così via. Nelle immagini, per quanto riguarda la registrazione, invece, abbiamo la possibilità di scegliere il formato di registrazione, l'abbiamo visto prima, la qualità della registrazione è stessa cosa, oppure decidere se impostare o meno la messa a fuoco continua, che possiamo impostare anche con questo switch che c'è qua sopra. Qui, invece, abbiamo le classiche impostazioni personali, che riguardano sempre la messa a fuoco, la possibilità di mettere insieme messa a fuoco automatica e messa a fuoco manuale, per fare una sorta di mix, che comunque non vi consiglio. E poi abbiamo i soliti settaggi, dove impostiamo la lingua, il monitor, la luminosità del monitor, la possibilità di diminuirla per risparmiare batteria, ripristinare il menu, il colore dello sfondo del menu, insomma, cose secondarie. Stessa cosa, invece, per quanto riguarda la sezione Play, dove possiamo decidere il tipo di presentazione, cioè avviare una presentazione quando clicchiamo su questo tastino qui. Adesso passiamo al punto più importante di questa pseudo recensione, insomma, delle mie impressioni su questa Lumix G7, ovvero come scatta le foto e come registra i video. Per quanto riguarda i video, vi lascio uno di prova in sovrimpressione, oltre a questo che state vedendo, che comunque è fatto bene, cioè mi sono trovato molto bene con questa camera, la messa a fuoco è molto rapida, soprattutto quando registriamo, agisce anche bene in controluce, quindi non c'è nessun problema di cambiamenti di luce, perché comunque la macchina, l'obiettivo, e cioè il sensore dell'obiettivo, si adegua bene ai cambiamenti di luce, e ho fatto tante prove in chiaro-oscuro, sfruttando anche una modalità, cioè un effetto, che è inserito all'interno della macchina, che vi permette di mettere un po' più di luminosità quando scattate una foto ad un soggetto in chiaro-oscuro, quindi controluce. Per quanto riguarda invece le foto, anche in questo caso ho messo a fuoco perfetta, lo vedete dalle fantastiche foto che ho fatto a questi fiori, davvero ottima anche nel mettere a fuoco l'oggetto in primo piano. È molto intelligente questa camera, riesce ad individuare subito quello che vogliamo fotografare e evidenziarlo rispetto a tutto il resto. Ho notato qualche difficoltà quando c'è poca luce, ma evidentemente è il sensore che, come vi ho detto prima, non è eccezionale, è quello base di Panasonic, quindi insomma, se volete qualcosa di più da questo punto di vista, se vi interessano moltissimo le foto rispetto ai video, sicuramente avete bisogno di un obiettivo migliore rispetto a questo, 14-42mm, che resta comunque un ottimo obiettivo. Quindi ragazzi, siamo giunti alle conclusioni, foto promosse, video promossi, camera promossa. Mi sono piaciuti più i video che le foto, però come avete visto dagli scatti che vi ho lasciato in sovrappressione, devo dire che non c'è nessun tipo di problema, insomma, i scatti sono molto belli. È ovvio che questa non è la camera top di gamma di Panasonic, c'è la GH5, c'è la GX7 o qualcosa del genere, insomma, ci sono macchine molto migliori rispetto a questa che è uscita due anni fa, ormai un anno e mezzo fa. Quindi sicuramente, se volete il massimo, non puntate su questa. Se volete equilibrio e soprattutto se volete spendere poco rispetto al resto e avere un prodotto dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, sicuramente è quello che vi consiglio. La consiglio anche a chi vuole iniziare su YouTube o comunque con una fanbase abbastanza ampia, perché è tutto quello che, da tutto quello che vi serve, soprattutto lo schermo ruotabile, che vi assicuro non è una feature che molte macchine hanno. Cioè nel senso che non tutte ce l'hanno questa feature dello schermo, che secondo me è assolutamente fondamentale per fare video su YouTube. Siamo arrivati alla fine di questo video, io spero che vi sia piaciuto, pertanto vi invito a lasciare tanti bei like, mi raccomando ragazzi, è molto importante che voi interagiate con like e anche con commenti. Lasciatemi un commento qui sotto per sapere cosa deve essere di questa Lumix G7. Acquisto che potete fare dal link che trovate in descrizione, vi lascio tutto quello che avete bisogno, corpo macchina, obiettivo, altri obiettivi secondari che in realtà sono migliori rispetto a questo. Ci sentiamo alla prossima, un saluto da Emanuele. Ciao! 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 Grazie a tutti